Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Qualche giorno fa vi avevo fatto una video reaction a caldo di KDE Plasma 6 in azione su KDE Neon. La video reaction era stata fatta proprio il giorno del re-hash di KDE Plasma 6 che è stato subito aggiornato su KDE Neon, che sapete, diciamo così, la meta-distro dedicata a seguire lo sviluppo di KDE. C'erano diversi bug nel primo re-hash, bug che finalmente sono stati corretti nella giornata di oggi, primo marzo. Uno dei più fastidiosi, di cui mi lamentavo nel video, riguardava il menu applicazioni perché praticamente non funzionava che nel solito tasto riavvia e quant'altro. Quindi dovete riavviare o spegnere il computer da terminale. Tiratina d'orecchia a quelli di KDE Neon perché il bug era specifico per KDE Neon. Alcuni lettori mi avevano segnalato che sulla loro installazione, ad esempio di Fedora 40, quella versione di sviluppo, non c'era questo bug, non c'era da diverso tempo, fin dalle precedenti release. Vabbè, comunque ci sono errori che possono capitare, meno male che l'hanno corretto in un tempo ragionevole questo tipo di bug. Ma perché questo video? Questo video è anche per spiegarvi come si fa ad attivare una funzionalità che molti di voi mi avevano richiesto e che non avevo capito inizialmente come si faceva ad attivare, ovvero i cubi rotanti su KDE Plasma 6. Perché non avevo capito come si attivava questa funzionalità? Semplicemente perché, come mi è stato suggerito da uno di voi lettori in un commento sul video e su YouTube, bisogna mettere esattamente quattro desktop virtuali, non uno di più, non uno di meno. Altrimenti la funzionalità giustamente non funziona. Cos'è non di poi è anche logica questa cosa. Quindi adesso vi faccio vedere come aggiungendo quattro desktop virtuali e premendo la combinazione di tasti A e Meta più C, quindi tasto Windows, ecco qui il nostro bel cubo. Con i tasti freccia è possibile scorrere il cubo. E ci posizioniamo in uno o nell'altro. Avete visto com'è semplice? Voi vi piace questa funzione? O siete anche voi uno di quelli che dicono nel 2024 il cubo rotante è una cavolata? Vabbè, comunque ci tenevo a fare questo video riparatore perché nel video che avevo postato prima dicevo che la funzionalità non funzionava e ho dato la colpa, se non erro, anche a KDE Neon. Invece funziona e bisogna soltanto attivarla in questa maniera. Quindi ricordatevi, quattro desktop virtuali e con la combinazione di tasti Windows più C, quindi Meta più C, come volete chiamare il tasto, è possibile attivare il cubo roteante. Bene, con questo è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo, ci rivediamo in un prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.